amici dei fatti di seo buongiorno oggi è giovedì sono le 8 meno 10 non so cosa succederà però io sono ancora metà in vacanza e metà no per quanto riguarda la metà no ho un po' da fare in effetti stamattina ma non adesso quindi adesso sono con voi vi parlo di due strategie di posizionamento qualcuno potrebbe intenderle come due moti di vivere la comunicazione diversi qualcuno potrebbe dire e avrebbe ragione che fanno parte della prima che delle scelte del carattere individuale di ciascuno e che poi voglio dire vanno a costituire quelle linee guida che si trasmettono al progetto che segui parliamo di comunicazione parliamo del giudizio di valore il giudizio di valore nella strategia di comunicazione come leva di posizionamento il giudizio di valore allora abbiamo due modi di intendere la comunicazione business a patto che la facciamo ovviamente perché poi là fuori è pieno di shop online che vendono qualunque cosa dietro cui non c'è uno straccio di volto ma non per questo sia sbagliato è vero che poi sarebbe anche interessante domandarsi come mai la comunicazione degli shop online è così impersonale perché amazon non c'ha un volto ci vabbè c'è proprietario no perché però non è che proprietario va a fare comunicazione proprietario va a fare i meeting su jeff bezos va a fare i meeting sugli yacht credono di simposi in toscana comunque sto divagando la questione del giudizio di valore è fondamentalmente interpretabile in due modi diversi buongiorno michele allora puoi essere duro oppure puoi essere piero angela ci sono due modi di adesso prendo il bastone faccio anche una passeggiata perché mi va ci sono almeno due modi di intendere la comunicazione tu puoi sparare a zero sugli altri ed essere divisivo e quindi 66 segmentario non so se esiste il termine segmentario in caso attribuisco la paternità cioè sei una di quelle persone che divide e tende a schierare gli altri arriva un camion passerà non passerà allora questo camion adesso va pienissimo perché sta girando allora questo diciamo nel piccolo per chi sviluppa un progetto di comunicazione su un brand personale o su una società di servizi forse sono questi diciamo gli ambiti in cui discorso che faccio stamattina si adatta maggiormente una comunicazione di tipo connotativo cioè pane al pane e vino al vino detto alla romana è una roba buongiorno francesca è una roba che tende a creare un punto una segmentazione nel tuo pubblico da cui avremo quelli che sono d'accordo quelli che sono contrari che cosa fai quando sei d'accordo e quando sei contrario sono quando ti fai un'idea netta perché dall'altra parte c'è uno che spara a zero e quindi ti porta a essere o molto d'accordo o molto in disaccordo che cosa fai commenti commenti condividi inneschi segnali e questa è una strategia molto posizionante lo sapete non c'è mica bisogno che ve lo dico io ma detto questo ecco alla fine di chi ci si ricorda un po di tutti cioè la comunicazione divisiva proprio gli spari sopra le posizioni molto nette hanno una forte efficacia in termini di posizionamento però che cosa mi dite allora di quelli che tendono a non schierarsi di quelli che tendono a tenere insieme le persone di piero angela in sostanza di colui che ha fatto questo lavoro per tanti anni poi qualcuno dirà che sulla luna non ci siamo stati io per esempio non sono convinto che ci siamo stati ma questa è un'altra storia ma nonostante ciò quando compariva piero angela a dirti che eravamo andati sulla luna ma non gliela fai a dirgli ma guarda però ci sono i video capito alcune persone non tutti ci hanno una leggerezza per la quale riescono comunque a mettersi d'accordo a se avesse venduto le pentole piero angela quanta roba quanti soldi in più avrebbe fatto se avesse fatto il venditore mamma mia insomma beh questo queste ultime riflessioni mi portano a credere che la comunicazione sia sostanzialmente un grosso inganno e che dipenda moltissimo da aspetti della prossemica che poco hanno a che fare con la concretezza di ciò che diciamo pensaci un momento pensaci un momento noi riusciamo a dar per buone delle robe che vengono dette da persone che ci piacciono ok cioè me buttiamo un secondo in politica via cerco di farmi capire con con un esempio molto molto vicino alla vita di tutti i giorni provandola a buttare in politica noi sappiamo che più o meno adesso la metà degli italiani voteranno da una parte e più o meno grosso modo la metà degli italiani voterà dall'altra ci sarà quel 10 per cento di scarto in più che farà in modo da darci un governo e non aggiungo altro su questo aspetto perché di politica non parlo però ecco ora diranno più o meno le stesse cose no ci sono delle differenze quello che dicono alcuni dicono delle stronzate inimmaginabili altri pure su altri fronti ora se ti piace uno o l'altro tenderai a giustificare quello che dice ma perché per appartenenza politica sì ma sai che si sta anche un po sgretolando questa storia dell'appartenenza politica nel senso che non è più tanto questo a tenere insieme le persone negli ultimi vent'anni abbiamo visto tanti passare da destra a sinistra tranquilla a patto che esistano però quindi anche rispetto al al digital anche rispetto al tuo progetto web ora cerco di tornare indietro non so se ci posso riuscire a questo punto ma ci provo anche rispetto al tuo progetto web può capitare che il successo o l'insuccesso della tua comunicazione dipenda dal tipo di persona che sei cioè dalle cose che dici da come le dici per cui incredibilmente tu puoi essere molto divisivo e funzionare oppure molto divisivo e non funzionare oppure puoi essere uno che cerca di far andare bene tutti quanti perché poi ecco vedete di spiro angela riusciva ma anche walter veltroni quando era sindaco di roma cercava di mettere tutti quanti insieme walter veltroni non me lo posso mai dimenticare cioè lui ti fa per la juventus però essendo sindaco di roma ti fava un po anche per la roma no se tv per la juve tv per la juve se tv per la roma ti fai per la roma è chiaro che poi la gente pensa che sei una banderuola infatti veltroni quando poi si è presentato alle nazionali andò malissimo perché lì mancava proprio ecco che cosa votava piero angela magari qualcuno lo sapeva pure ma non importava perché comunque c'era un impegno una passione in quello che faceva tali che trasparivano e quindi vorrei giungere alla conclusione di questo piccolo video che cosa è che fa la differenza nella comunicazione cioè quanto sei convinto ecco non quanto tu sia nel giusto quanto tu sei convinto che quello che stai dicendo funziona quello che stai facendo funziona che porterà un reale vantaggio ecco forse questo vale ancora di più degli aspetti connotativi se sei uno che cerca di dividere o denotativi se sei uno che cerca di raccontare in modo neutro noi diciamo sempre una cosa un conto è dire faccio un esempio non me ne vogliano quelli che si girano male contro il body shaming io posso dire renato brunetta è alto un metro e 47 non so se quella l'altezza giusta però diciamo per dire è basso metro e 47 fai un metro e 50 oppure posso dire renato brunetta è un tappo se nel primo caso io ho denotato un dato quindi ho detto qualcosa di inappuntabile al fatto che sia quella l'altezza giusta tanto silvia scrive la realtà è che si è persa la capacità di valutare oggettivamente le situazioni e quindi al suo è più forza il mood comunicativo a silvia hai centrato esattamente il punto di quello che volevo dire ma si è persa la capacità di valutare oggettivamente le situazioni però scusami silvia ma quando ce l'abbiamo avuta noi questa storicamente proprio voglio dire questa capacità di valutare oggettivamente le situazioni l'uomo e la società si coproducono e non c'è un qualcosa di oggettivo se vai a sentire anche baricco sulla significazione baricco ti parlerà di una moneta cioè quello che di più ovvio quello che di più oggettivo tu possa immaginare la banconota anzi una moneta di ferro ma che c'è qual è il fatto il fatto è un disco metallico e oggettivo sia oggettivo aspetta dirlo ma questo disco metallico ha un valore e da cosa dipende quel valore dalla testa del sovrano che c'è incisa sopra e quanto vale la testa è il sovrano che c'è incisa sopra e da cui baricco parla per due ore e vattela a cercare su che cosa sia reale oggettivo e che cosa invece sia frutto di una negoziazione e queste sono cose molto interessanti quindi a valle di tutto questo ragionamento proviamo adesso a tirare una linea e a guardare intanto la valle degli orti ragazzi è qui che crescono i borlotti più buoni devo dire sta cosa ogni volta non ci stanno santi allora voi vi rendete conto che la importanza del di introdurre il mood comunicativo nella comunicazione aziendale è difficilmente sopravvalutabile eppure ancora adesso continuiamo ad affidarci alle sponsorizzate su google web search cioè sul motore di ricerca annunci generici banali senza volto chiaramente ripeto vanno benissimo se vendi i tostapane ok c'è michele ogni cosa vista da una prospettiva assume un valore più o meno diverso e drasticamente soggettivo sta a noi capire quando la prospettiva è totalmente distorta ma sarebbe un discorso infinito sì allora io adesso non voglio fare un ragionamento da watchdog non voglio dire quali sono le armi per capire se uno ci sta raccontando panzane o se invece è giusto la vorrei mettere in termini più neutri cioè vorrei semplicemente rimarcare l'importanza nella comunicazione business nel nostro caso di singoli professionisti o di società di servizi è quanto sia importante quando il bene soprattutto e a maggior ragione quando il bene è intangibile avere una faccia lì davanti che esprime delle opinioni a questo punto noi diciamo due strategie potenti ma in realtà la strategia potente non è avere un tono connotativo divisivo oppure avere un tono denotativo che punta con la retorica a tenere tutti quanti insieme è forse un passo indietro a questo passaggio cioè l'idea di avere qualcuno appassionato di ciò che fa che riesce a trasmettere la propria passione e che riesce a tenere le persone insieme o a dividerle in virtù di questo e forse forse questa roba un po manca forse questa roba un po manca ed è una strategia di posizionamento brillante bisogna partire dalle basi a io sono contrario ai meccanismi di pianificazione cioè quelli che vengono a raccontarti che per fare il branding o il personal branding bisogna pianificare no secondo me è un po come quando si crescono i figli i figli mica si pianificano i figli vanno semplicemente marinati nell'affetto e quindi con questa vi vorrei salutare stamattina un progetto di comunicazione è come un figlio gli devi solo voler bene non c'è tanto da pianificare adesso lo mando a quell'asilo poi quando lo mando all'asilo gli compro quel tipo di grembiule non quell'altro però devo sapere prima di fare il figlio perché se no pianificato male ragazzi il nostro lavoro è un bambino nelle nostre mani è un figlio che noi cresciamo ogni giorno tramite le difficoltà mica lo pianifichiamo qualcosa che fa la differenza cosa che fa la differenza tra uno che cerca di sgomitare per vendere un sito web a 200 euro è uno che invece riesce nel corso del tempo a costruire anche un seguito per cui riesce addirittura a fare selezione fra i clienti a scartare quelli che non gli piacciono a seguito soltanto i progetti che ritiene più interessati qual è la differenza la differenza è certamente non aver fatto più ads la differenza è essere riusciti a comunicare una passione un interesse vero spontaneo genuino un amore un affetto serio come quello che provi per per tuo figlio e come diceva anche steve jobs che alla fine non possono nominare ci ho pensato per tutto il tempo mentre parlavo steve jobs alla fine della festa non ci sarà altro modo per avere successo nel lavoro che amare quello che fai e lui era uno molto divisivo quindi non c'era rabbia nelle sue cose non era sgarbi ecco per esempio sgarbi secondo me non ama quello che fa lì c'è un eccesso di narcisismo però ormai diciamo anche lui è uno che ha già dato insomma e rimane anche anche lui però ecco se pensi a uno come sgarbi sgarbi dove lo collochi per forza di cose poi mi direte se siete d'accordo o no all'interno di quella sfera del trash cioè sgarbi o lo ami o lo odi sì ma sta sempre dentro una televisione spazzatura con dei toni esasperati con una comunicazione che esacerba il difetto dell'avversario che si basa tutta sulla contrapposizione con un avversario e che è che non non gli dà via di scampo non c'è accordo è un dialogo in senso greco il dialogo è la contrapposizione dialogos no il dialogo è sempre una guerra va bene e quindi mi direte voi ma niente voi lo sapete che io la mattina passeggio e vi racconto cose a volte sono tecniche sui percorsi di scansione altre volte magari sono sono più allegre come in questo caso sono più facili quelle tecniche in verità perché quando poi cominciamo a parlare di comunicazione ci addentriamo all'interno di un mondo per il quale ognuno di noi potrebbe essere portato a pensare sì ma io però questa cosa non la posso fare non ci sono tagliato ma in che senso non ci sono tagliato guardate che qua non si tratta di fare un video al giorno come diceva montemagno qualche anno fa non si tratta di di essere presa di raccontare le barzellette no 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 allora non mi sono spiegato proprio quasi tratta tanto michele scrive mi hai fatto venire in mente un discorso di pasolini alle 8 di mattina 17 agosto beh michele grazie ti ringrazio qua si tratta semplicemente di fare una roba che ti piace ragazzi ma guardate che questa cosa non me la sto inventando adesso che uno dice ah cazzo francesco ha detto che dobbiamo fare una cosa che ci piace ma scusate ma la vostra maestra elementare non mi raccontava questo non mi diceva questo ciao andrea no e tutto sommato si tratterebbe di fare una roba che ti piace di cioè alla fine il discorso si riduce là e purtroppo non è banale perché là fuori c'è un sacco di gente che che fa lavori che odia sostanzialmente anch'io ragazzi anch'io preferirei passare più tempo a suonare o con la mia famiglia non necessariamente in quest'ordine ok preferirei passare più tempo a fare altre cose più a dormire bello dormire a camminare mi piacerebbe molto di più lavorare è pesante però però quando lo faccio lo faccio immergendomi nella cosa penso che non ci sia ricchezza più grande e penso che quando ti immergi nelle robe e hai anche la fortuna di farlo sapere penso che funziona di più quindi è tutto sommato alla fine vado a concludere un ragionamento molto banale veramente molto banale quindi vi ho fatto perdere un quarto d'ora stamattina forse anche qualcosa di più che una ventina di minuti scusatemi scusate io non pensavo che sarebbe venuto fuori un video così banale si conclude dicendo che il successo della comunicazione è nella capacità di generare un mood comunicativo tale da lasciar trasparire la passione per quello che fai ragazzi è banalissimo quindi io adesso abbasso la testa e continuo la mia passeggiata scusate ciao